buonasera buon pomeriggio buonanotte e buongiorno allora ragazzi fuori ci sono 40 gradi come minimo saluto tutti e non saluto nessuno allora ragazzi giovedì aggiornamento del giovedì leggo tutti rispondo a tutti i cuoricini mi piace a tutti ragazzi mancano pochi iscritti a 2600 iscritti pochi avevo pochi non vi sto chiedendo molto ragazzi pochi vi aspetto chi non l'avesse fatto si iscrivesse ammazza quando ci mette ragazzi ieri dopo il video poi ho continuato a fare qualche partitina dopo dopo qua live in corso o mi hanno già detto delle belle lettere che ci sono da oggi in poi che andremo a vedere vabbè allora ieri abbiamo ho provato costantemente il bapè nuovo e devo dire che sta facendo il suo ragazzi gli ho dato qualche abilità proviamo il baguettino sempre tirato quadrato premuto senza togliere ragazzi col cazzo la palla il portiere non lo faccio neanche muovere ragazzi non si muove neanche a pagare ok allora e ho fatto diciamo un bel filottino di vittorie ci prendiamo tutto allora vedete ho consumato un po di gp per dare le abilità che sarebbero queste questo perché pino lo so ok accelerazione c'è gli ho dato ragazzi li posso dare un'altra cosa cosa mi consigliate gli ho dato spirit combativo disipendio acrobatico passaggio di prima controllo di suono ragazzi che cazzo li posso dare tiro quattro di prima ce l'ho che cosa li posso dare quello che si gira la come si chiama vediamo come si dice quella cosa che si gira tagli alle spalle girano rimbalzi interno agire da distante vediamo se c'è quante le vuole stane va perfetto minchia lettera b agiaia e le tracimenti vabbè da lettera b sabila e la madonna c delit anche se uno dice squadra che dice non si cambia e avete ragione ma noi faremo così adesso cosa vedo nei miei occhi però è lento questo è cristiano ronaldo lento facciamo una prova 101 e l'altro ronaldo che ho che deve stare da queste parti quasi il più scasso secondo me una 37 anni l'altro 38 allora oggi controllo di palla meglio il mio ho stesso stretto di Nino fino al ah no tutto mio e di più lui più ci accaccia da fè non me ne frega tiro a G non me ne frega velocità ahia però il salto no no meglio il mio e lo porti oh guardi oh oh mamma mia quante belle lettere dai ti rinnoviamo ti rinnovo e ti proviamo rinnovo dieci giorni dai che poi chissà se continuare finalmente l'ho nato a lettera a raga e gli do una bella riserva di lusso dai e non so cosa dagli non so cosa dagli verità progresso riserva di lusso dico vedi che non ne ho ah beh ma gli volevo dare anche ma finisco il gp raga è un menù che ho convertito parecchio gli volevo dare anche questo se c'è ma non penso non c'è mi riluso vabbè allora dopo andiamo a vedere bene bene magari eventi gli eventi qualcosina ho fatto qualcosina no quindi hanno aggiunto qualcosa che avevamo fatta hanno messo questo accorda buio nè c'è ragione vabbè il classico oh ecco si sta scaricando puri giochi porca qui che hanno messo il golden goal national team non l'ho fatto golden goal lo devo fare e l'opera scala no niente agili gratis pacchi pacchetti allora questo è il risultato della mia della coppa ragazzi una sconfitta su quattro quindi sto di nuovo a ridosso della d2 ok chissà riuscire a fare 5 vittorie di fila vabbè poi hanno messo faccio i pacchetti pacchetti pacchettini il solito niente di nuovo come allenatori abbiamo ancora questi che non mi possono interessare di meno adesso fa famo camant questo che costa di tram perché c'è il buttato questo c'è il buttato non va allora punti football nada de nada ho giocato al linea di divisa sempre stessa vabbè dai ok poi pacchetti possiamo andare a fare in cura missioni vabbè stiamo sempre la contratti sempre lì stiamo ragazzi una cosa è che se siete d'accordo ma perché non li hanno aggiornati qua se io faccio valore valutazione generale o valore giocatore cioè sono sempre gli stessi vabbè non lo puoi migliorare da quello che ho io no eh vabbè allora hanno messo questi ragazzi io non so se sono buggati o meno sicuramente ragazzi però questi dice il contenimento che è sempre è sempre attivo questo booster ok non mi interessa sembra darà un giorno bene se no questi due di tutti qua sarà quello contro con quel che potrebbe interessare potrebbe essere lui un animale ragazzi questo vi è attivato solo con però non si possono pompare poi vediamo il mio il resto non mi interessa ragazzi ma vi faccio vedere cosa intendo vabbè poi il resto maradona cazzi e mazi cazzi in cura e vaffanculo allora ce le conserviamo le minuti le monetine ragazzi stanno qua ce le conserviamo per di bier quando uscirà drogba allora andiamo qui continuiamo con questo schema allora ragazzi di serve proviamo visca non è messo le lettere ripartiamo ripartiamo con le lettere hanno messo messi lettere a b 81 di velocità resistente 78 va bene ho 4 rodri sabila che poi sto pensando qual è più veloce ma è molto meno difensivo vabbè poi questo è un altro abbiamo confrontato si giusto allora c'è un posizione portieri qualche portiere buggato una e simone queste cose del marocco la faccio in casa una e simone sono due qua noia da una finca questa però più due più quattro e due meno due più cinque parata meno uno ma lasciamo in modo come da poi vediamo anche se le tra la lettera portiamo da o letra o black più se chiude un'altra mica no bug di merda ma i quali un e no confondiamo con lui meno c più dieci c'è quello riflesso attraire ma più sette tutta la vita lui poi poi abbiamo poi stones stronz o martinez finalmente rudiga che col a b e solo più uno col a b e solo più uno e ma io ci ho già voluto dire qua allora facciamo così confondiamo più due più due meno uno e questo con questo che c'è il più uno però ricordiamoci meno quattro e meno c'è una merda quella bustata è una merda non è capace l'ultima non adesso c'è è bu l'ultimo 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 Mannaggia, ma stai fermo! E' un'ottante da l'ho! cazzo mi porto eh, qua il Dior oh, non ho detto Ronaldo e controlliamo l'altro ah, ecco chi devo portare ho visto uno ecco qua e questo è uguale a quello cioè guardate questo questo è solo omaggio a quello che danno oggi se chi cazzo tolgo facciamo così dai cioè guardate che animale questo è tutto 99 questo è di qualche anno fa tutto di qualche anno fa mamma mia santa cioè meglio di lui cioè guardate questo è un giocatore pesco GP madonna buon degno sostituto poi cosa bisogna fare più di una squadra c'è Maria busiala che non uso ma ragazzi ho mai usato una partita ha fatto una partita oh ragazzi a me non piace che cazzo mi devo dire non lo so usare boh forse l'altro l'ho convertito mi sta stuzzicando il disco il fatto di portare gullet saremo a vedere può fare tutti i ruoli oh sane oh sane quanti cazzo di Maria che ho qua dove è un altro di Maria io ecco qua 81 velocità 86 velocità ragazzi questo è il pacchetto di guadagnamenti mondiali ecco eh minchia sto messi letta a 66 velocità porca troia sto dando una sbicciatina 80 velocità 80 78 non l'abbiamo visto ok 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 ecco ok 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 sviluppo questo sviluppo vabbè tattica secondaria io lo proverei ragazzi svolta e riserva di lusso questa no ah sì perfetto 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 vero o no? no vabbè riserva di lusso allora ragazzi io direi di iniziare vediamo come va tattica secondaria perfetto difensivo su lui difensivo su cantè contropiede e contropiede su rumenighe difensivo difensivo contropiede e contropiede su un pape ragazzi nesta rumenighe abbiamo preso un po' di tempo ragazzi per caricare qua che è tossico vamos oggi gioca l'italia alexa rai radio 1 alexa spegni non so chi cazzo sta giocando alexa risultati calcio europei di oggi alexa spegni mamma mamma ragazzi divisione 2 ma io non mamma uffa nessuna dai i numeri i numeri i numeri ma questo skill questo ragazzo ricorda freccia su un massimo dai sono pazzo nesta per nessuno ok e vabbè che fa non lo metti e certo lo metti grazie Continuità, ci vuole un po' di continuità in questo gameplay di merda, perché di merda è in generale sparita. Stagionamento, installa, vuoi spartagionamento, installa. Grazie, mi riesco. Vabbè, 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 che palle quando fa così, ora così, vedi? Ho sbagliato io qua, raga, ho sbagliato io qua. Ma come cazzo mi viene? Andiamo a farvi vedere. Ho sbagliato io là. Mani fredde, raga, mi devo riscaldare qui. Beh. Ah, vabbè. E che palle, ma perché si trova? Ma esce a farlo, e gliel'ha dato. Niente. Non riesco a farlo con Ronaldo, devo fare i passaggi di prima. E che cazzo dai! Non riesci Non riesci Non riesci inенным Culo di merda E che culo, due merda alla seconda E dai Raga, ma la donna si va nascondendo Ma tu guarda che cazzo di gol ho preso Mannaggia a me, mannaggia a Cristofro Colombo Porca troia, uh Uff E dai, Rona Ieri ho visto una live di uno italiano che è stato top 100, top 100 Mi fermo, ragazzi, che è imprendibile È imprendibile C'è una cosa incredibile Vabbè dai Che gli succedono, le stesse cose che stanno succedendo a me, ragazzi Le stesse cose, identiche Guardate No, affittiamo, ragazzi Facciamo un'altra veloce Senza perdere tempo Tanti, divisione 2 è questa, dai Ok No, non voglio perdere tempo Come ieri, ragazzi È inutile Questo è il match Conami Perché non gli dai divisione 1 a questi Dai Tiè Non mi interrodo Fammi perdere almeno 20 punti, non di più Sempre così è Fuori casa 5 i tuoi di fio 27 punti 25 Incredibile 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 Dopo il video di ieri mi volavano Mi volavano, ragazzi Volavano Mi volavano Puttana maiala di sto gioco di merda, oh Puttana maiala Guardate Guardate Qua rimone che non ne ha preso una, oh Guardate 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che cos'è sta cosa? Che cos'è sta cosa? Ma dove vai, Turan? Che cos'è sta cosa? Vabbè. Perchè? Grazie. Ma no, ma io l'ho data a Ned, ve lo giuro. Che cazzo ha preso. Eh, sono anni che non gioco con Ronaldo, vabbè. Sono anni. Vabbè. 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 Dai. Dai, Nico. No. Non ci siamo proprio. Va, via Ah beh, che dicevo io Perché, ma che cazzo È rimasto in automatico Vediamo l'occhietto di Cristiano Ma fa pure il rima Beh, qui tu lo devi Vatti nella zona, cazzo Va, mi fai un altro Tacche giù questa volta Perché la prima partita Non ho messo qua Come sto giocando adesso Ecco qua Prendia Grazie a tutti Grazie a tutti No, ho sbarato io qua, ho sbarato io qua, lega, decisamente ho sbarato io qua. Non devo uscire col centrale, ma d'occhio è brutto vizio che ho. Dai, alta, dai, mi ero una tenda di testa, ma. Eh, va, 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 va. Ficca come è lento a girarsi. Ma due minuti sono passati. Ma perché, raga, guardate, cioè, era due minuti, stava ancora accettato. 49, dai, 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 ma fai continuare, Konami, fai continuare, dai. Testa di cazzo di gioco, ma porca troia, sto gioco di merda, oh. Porca troia, sto gioco di merda. Ma è Ronaldo, ma è da tra la mossa. Questo c'è più gol che ha, stite brief. E gioca, da, non mi fa perdere tempo. Ai, dai, tavi. Niente, ragazzi, sono nati per perdere tempo questi, oh. Niente, ragazzi, sono nati per perdere tempo. E che devo dare? Ragioniamo, cominciamo già all'Ucrae. Vabbè, dai. Ma che cazzo devi ragionare, qua. Ronaldo è già morto, raga. Ma era, eh, l'ho data a Nedve, ragazzi. L'ho data a Nedve. Vabbè, dai. Vabbè. Vabbè. Ma guarda lì. Ma devo apprendere Govalia, ma è una cosa incredibile. Cioè. Ma perché? Perché ve lo chiedo io. Perché? Ma par... Ma guarda lì. Ma guarda lì. S status. Ma guarda. sì non vedete ma io mi voglio strappare i capelli che non ho i bimbo ma che conto e farmi giocare cristo santo guarda se cerco come sa le pia fuori giù non ci sto credendo la grada è un turco vabbè ma non ci sto 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 mi sta venendo voli qui talo ve lo dico guarda com'è ma si ferma sono semi raga non ci sto è andato è andato Maledetto Gio Non riesco a fare più nulla Vedi, è andata raga, è andata È andata raga, è andata Con i cessi perdiamo Guarda come è lento, guarda È andata Guarda com'è lento, guardate Madonna mia che palle sta dando Non riesco neanche a mettere pausa È andata raga, è andata È andata, è andata male raga È andata malissimo Qua perdo più di 30 punti È andata raga, è andata raga Questa è andata raga, è andata raga È andata raga, è andata raga E anche l'ora Guarda com'è è lì, guarda Grazie. 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 Sarà diviso in due video. No, raga, non ci credo. 2 a 0 per me. Cazzo, mi lamenta a fare. Cazzo, mi lamenta a fare. Cazzo, mi lamenta a fare. 50 punti quasi, va bene. Cazzo, mi lamenta a fare. Cazzo, mi lamenta a fare. Cazzo, mi lamenta a fare. Fermo, Lumenic, raga. Fermo. No. Ma siamo seri. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Mi anticipo uno. Ma quello là che sta a fare. Vabbè, dai. Vabbè, dai. Ma sta a fare troppo di più, cusce. Vabbè, dai. Maledetta a me che registro. Ma che montato è questo? Ma qualche scatola posso trovare io. Brù. 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 Ah, sì. Ovviamente. Ovviamente. Ovviamente andando, quitando le partite non mi da gli eventi. mamma mia raga è passato davanti vabbè dai io non mello che non commento io è meglio che non commento oggi montato quando fanno così e dai madonna mia ma vabbè però cristo santo è ok ma questa fa il mediano ma si scanta no ok 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 quando aveva quello ok 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 ok